Ciao a tutti ragazzi, in questo video parleremo dei best settings, quindi delle migliori impostazioni grafiche per ottenere più fps possibili in game, senza però pregiudicare eccessivamente l'aspetto visivo, perché ok che vogliamo raggiungere i massimi fps possibili, ma comunque di certo non vogliamo porci la domanda, ma quello è un player o una pianta? Quindi dopo svariate ore, e ormai i giorni direi di benchmark di tutte le impostazioni grafiche, ecco come sono passato dal setting consigliato di code che mi generava questi fps, ai miei best settings personalizzati che invece mi hanno generato questi fps, ma vediamo nel dettaglio quali sono, iniziamo! Probabilmente quello che vi starete domandando è se il preset prestazioni oppure impostare tutti i parametri su basso o molto basso sia l'opzione migliore, beh a livello di fps e devo dire di sì, come potete anche constatare da questo benchmark, ma a quale prezzo? Una visual letteralmente orribile, come dicevo appunto prima, sulle lunghe distanze diventa difficile anche riconoscere un player. Per farvi capire bene le differenze vi mostro adesso una piccola comparazione. Come potete notare, la differenza che passa tra settare tutto low e i miei best settings è abissale a livello di visual, ma non di fps, dato che si differenziano solo di 8. Nel contempo però, la differenza che passa tra i best settings e i settaggi consigliati dal gioco è quasi nulla a livello di visual, ma è invece immensa nel comparto fps, cioè di ben 74 praticamente, è come avere il doppio dei consigliati mantenendo quasi la stessa resa grafica. Detto ciò, voglio fare due precisazioni. La prima è che i valori di fps che vi sto dando sono relativi ai test fatti nella sezione benchmark del gioco e non quelli reali della partita live. Questo per darvi delle cifre esatte, fermo restando che il gain del 99% degli fps tra il setting consigliato e i best settings vale anche per la partita live, dove ovviamente i mappe grandi come invasione saranno più bassi e i mappe piccole tipo team deathmatch saranno più alti. La seconda precisazione invece è che questi stessi valori cambiano da pc a pc in base alla configurazione. La mia la troverete in descrizione. Ora vi rubo solo qualche secondo per dirvi che se il video vi sta piacendo iscrivetevi, lasciate un like e attivate la campanella così da non perdervi nessun aggiornamento. In caso contrario fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ma ora torniamo a noi e andiamo nella sezione delle impostazioni grafiche. In modalità video vi consiglio solo per schermo intero, per ridurre l'input latency. Nel monitor selezionate quello con il più alto refresh rate, nel caso ne avete più di uno. In frequenza aggiornamento schermo selezionate il refresh più alto disponibile. Nella risoluzione video quella nativa del monitor. Per i due v-sync impostateli assolutamente sul no per evitare di cappare gli fps in automatico. Qui il discorso si fa leggermente complicato. Tendenzialmente vi direi di impostarlo sul massimo del vostro refresh rate del monitor. Quindi se avete un monitor a 144 Hz lo impostate a 144 fps per non sforzare inutilmente la scheda video. Ma in questo specifico caso lasciatelo su illimitato e limitate gli fps con app di terze parti tipo pannello controllo Nvidia oppure RTSS accessibile da afterburner. Questo perché limitarli da impostazioni grafiche a quanto pare ha un carico che definirei eccessivo sulla CPU, deteriorando le prestazioni. Su luminosità vi consiglio di spostarlo a 55, così da vedere meglio nelle zone buie. Passiamo ora nel tab qualità e andiamo nella sezione Upscaling Sharpening, dove selezioneremo Fidelity Cas, che ha una resa grafica davvero pazzesca. Clicchiamo mostra di più e spostiamo il selettore completamente sulla destra. Per la dimensione memoria video impostate il parametro su 80 per evitare i possibili stuttering e ridurre quei freezer randomici diciamo. Ora vi darò il tempo di copiare tutti i settaggi. Interverrò per quelle impostazioni che meritano una spiegazione. Grazie a tutti. Streaming texture on demand va settato sul no, ma prima assicuriamoci in mostra di più di impostarlo tutto al minimo, giusto una sicurezza in più. Se avete cache luci fisse su bassa, impostatelo su medio per un incremento degli FPS. E se avete abbastanza VRAM, tipo con schede video di ultima generazione, impostatelo addirittura su alta per un leggero ulteriore boost, ma non eccedete andando su ultra dato che andrete incontro allo stuttering sortendo l'effetto contrario. E siamo arrivati alla fine. Su bassa latenza in video reflex, nella maggior parte dei casi, impostatelo su sì. Nel caso abbiate delle RTX di ultima generazione, potete usare anche il C plus boost. Tutto il resto no, è effetto pellicola zero. E con questo sono finiti i best video settings. A dire la verità, ci sarebbe un altro modo per incrementare ancora di più gli FPS, ma sono ottimizzazioni relativi a Windows e ai possessori di schede video Nvidia, con settaggi del pannello di controllo della scheda video e sostituzione dei driver, dato che ci sono dei bug relativi allo giramento degli ultimi usciti, come hanno anche constatato i ragazzi di Binox, l'azienda che gestisce Modern Warfare 2 per PC. Nel caso siete interessati ad un video in merito, fatemelo sapere nei commenti, così che posso realizzarlo nei prossimi giorni. Beh, a questo punto non mi rimane che salutarvi. Al prossimo video. Ciao 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 ciao.